Un bravo attore studia e Andrea Meo è pronto a recitare una parte importante, quella di un avvocato in una produzione italo-spagnola che si innamora del Texas Hold'em e allora Andrea Meo ha scelto di giocare a Texas Hold'em in un torneo. Assolutamente sì, sto studiando ormai da qualche mese tutti i movimenti, le tecniche, la concentrazione dei veri giocatori e non c'era migliore occasione che un torneo importante come l'Ipo, dove la quantità di giocatori e la professionalità e la serietà del torneo sono di grande insegnamento a quello che poi dovrò interpretare durante questo film. Lo trovo emozionante, quindi devo dire che non sarà assolutamente difficile entrare nel ruolo e nella parte perché ci sono dentro anche nel privato, quindi sono contento di come sta andando lo studio per questa parte. Avvocato e giocatore, però invece di studiare il codice hai preferito studiare il Texas Hold'em? Assolutamente, avvocato che diventa giocatore, una storia a varie sfaccettature perché poi nel mondo del Texas addirittura troverà l'amore, troverà insomma tanto da lasciare la sua professione e diventare un giocatore professionista del Texas Hold'em, quindi insomma divertente, emozionante, drammatico da una parte ma insomma pieno di mille intrecci e mille sfaccettature come film. Peraltro tu hai una base tecnica importante perché vieni da una scuola sia di improvvisazione che di recitazione sia a Roma che a New York, quindi parliamo di non vivere il mondo del poker così come un'immagine ma proprio con un sentimento, con un'interpretazione. Assolutamente, esco da, sì come hai detto te, insomma dal Geraldine Barron che è un istituto molto serio a New York dove ti insegnano una tecnica chiamata emotività sensoriale che è quella tecnica che poi serve ad interpretare pienamente il ruolo che ti stanno scrivendo, che ti hanno assegnato in quel momento. E la sto mettendo in atto insomma oggi a questo torneo, quindi devo dire insomma che l'istituto dal quale provengo è sicuramente panni per i miei denti e mi ha insegnato insomma ad apprendere tutto quello che sto vivendo sugli altri personaggi. Si astende che un attore frequenti un torneo magari da un buy-in elevatissimo per immagine e invece tu hai scelto probabilmente la sostanza e la familiarità. Materialmente perché hai scelto l'Italian Poker Open? Perché mi è stato, ho parlato insomma con persone che frequentano il mondo del Texas da tempo e mi hanno consigliato insomma l'Ipo come il miglior torneo insomma in questo momento in giro da vedere, da vivere e da giocare. Mi sono state fatte altre offerte di altri tornei, è vero anche tornei dove il buy-in era insomma molto più alto di questo però ho ritenuto insomma più opportuno per me, per quello che vado ad interpretare, partecipare a questo torneo perché forse ho la possibilità di vedere più persone umane, quindi meno professionisti, persone meno nascoste che non ti lasciano vedere la loro tecnica e il loro gioco invece qui conosco, vedo, parlo, dialogo insomma con persone che fanno tutt'altro nella vita quindi insomma vari lavori, varie cose che hanno la passione del Texas e quindi mi fa piacere carpire da loro insomma tante movenze che devo imparare ad usare. Innegabilmente ci hai preso perché sei entrato nella storia del poker, questo torneo ha scollinato i 1100 iscritti battendo se stesso, vuol dire che prima andrà bene? Assolutamente, spero di fare gli stessi numeri, insomma se questo è il massimo di player in gioco mi auguro di fare gli stessi ascolti con il film, quindi rapportato, spero che il botteghino sia altrettanto pieno.